Ciao a tutti mici micini, io sono Valentina e oggi faremo un altro video ed apriremo lo slime Jiggly sabbia slime ed è blu e giallo e oggi li andremo a mischiare con voi, si andiamo ad aprirli scusa mamma no, aspetta, aspetta no, 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 è una cosa strana viscita allora questo è lo slime clear o trasparente ed è molto bello no, aspetta che bello prima prendiamolo tutto e poi mischiamo sembra tipo acqua in mano però solida quanto è bello fa un bellissimo rumore, sentite? ragazzi adesso andiamo a mescolare lo slime con la sabbia gialla e la sabbia azzurra aspetta, prima di mescolare qual è il vostro colore preferito? quello giallo o quello azzurro? scrivetelo sotto nei commenti vedete apriamo quello azzurro e prima giallo qua ci sarebbe la Z però io non avevo voglia di aprile però siccome sono brava lo apriamo da qui c'è ancora lo slime che bello che bello lo slime lo rende ancora più morbido no, non mi cade tutto c'è la gatta che cerca di entrare chi è? ah, un intruso un intruso io penso fosse la gatta ciao Emi come stai? sto bene sentite? adesso aggiungiamo quello azzurro secondo voi che colore verde o azzurro? scrivetemelo sotto nei commenti quanto è morbido? non lo so lo amo è troppo bello oh 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 mamma mia oh è verde no 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 cioè ma guardate è giallo verde azzurro ma quanto è bello questo diventa sicuramente il mio preferito no dai che bello è verde acqua quanto è bello quanto è morbido spero che questo video vi sia piaciuto vi prego di iscrivervi e lasciare un bellissimo commento ciao